non riesco a credere di essere fuori di essere qui insomma con te in italia eppure io vorrei solo che le circostanze fossero diverse capisci sì la vista è migliore da quella parte quindi tu sei già stato qui credo sia la terza volta ho sbrigato un paio di lavoretti con sullivan beh sì capito non si può salire sul ponte beh c'è quella trave a vista in basso se agganciarla con la corda se so agganciarla con la corda guarda qua sto guardando io l'ho mancata beh sai è tutta una questione di polso fai dare un occhio visto si niente male per un secondo tentativo visto sei un professionista toccate scambiamoci di posto sali su di me ho una buona presa d'accordo ehi potremmo aggrapparci a quella trave certo ok proviamo al primo tentativo nessuno ama gli esibizionisti ok forza natan forse potresti calarti per raggiungerla ci sono ok ok ma sopravvitturo aspetta per modo di dire respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare bene lì sta ehi è scommesso sulla partita inghilterra vincente inghilterra traditore ehi non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà ok via libera santo cielo l'hai visto quel mercenario era armato fino ai denti dovevamo portare le pistole se il filo era liscio non ne avremo bisogno spero che tu abbia ragione quanti anni sono passati sono le piccole cose a mancare di più la nostra finestra vorrebbe tenere forza scendi forza scendi per quanto ricordarsi sì non dirlo a me allora che mi dici gli altri reperti quelli che mi sono perso sei riuscito almeno a fotografarli magari Elena ne aveva filmati alcuni ma la telecamera è andata che peccato ho dei disegni però posso mostrarti lì al ritorno dei disegni li hai appesi al frigorifero no ma sono bei disegni ah immagino non so come arrampicarmi qui eh interessante forse volevi dire instabile tutto bene sì sì tutto bene lì tutto bene è lì È un casino se sbagliassi ora. Questo è certo! Ma io non sbaglio. Perfetto, grazie. Nathan? Nathan! Cosa? Oh, giusto. Ok. Tutto bene? Sì. Come sto? Come 400 milioni di dollari. Andiamo. D'accordo. Ti seguo. Sally? Sai perché adoro le feste degli avanzi di galera? Spettiamo. Nessuno si lamenta se fumi in casa. Quanto tempo. Troppo, ragazzo. Ricordi il mio defunto fratello, vero? Victor? Che mi venga un colpo. Quindici anni. Già. È bello vederti vivo. Cerchiamo di tenerlo in vita recuperando la croce, eh? Sì. A proposito. Cosa? Che è successo? Venite. Vi mostro una cosa. Guardate. È la croce di Avery. L'hanno tirata fuori poco prima che arrivaste. Sì. Hanno cambiato l'ordine dei lotti. Serve un sacco di grana per fare una cosa simile. Quanto manca prima che inizi la sta? Dieci, quindici minuti al massimo. Ci sarà pure un modo per prenderla. L'unico piccolo problema è quel centinaio di testimoni là sotto. Ok, ma basterà un diversivo. Tipo? Tipo... Tipo non lo so. Ma deve esserci un modo. Se le guardie ci vedono vicino alla croce... E se non ci vedessero? Ragionate come se non foste mai stati in prigione. Se vuoi fare qualcosa di proibito... Aspetti che... Spengano le luci. Già. Dov'è il quadro elettrico generale? Aerazione... Elettricità... Eccolo, quassù. Basta arrampicarsi e tagliare la corrente. E prendere la croce. Ci sarà un generatore d'emergenza. Questo ci lascia pochi secondi di buio in cui agire. Dovremmo essere vicini alla croce quando saltano le luci. È impossibile avvicinarci senza farci notare. Scusate signori. Antipasti? Oh no, grazie. Ciao. Come stai? Ciao. Concentrati. Un cameriere non si nota. Potrebbe andare. Funzionerà. Bene. Allora, io arrivo all'interruttore e taglio la corrente. Faccio il cameriere? Sei il ladro migliore. Tu scendi di sotto e tieni d'occhio la croce, ok? Se noti qualcosa di... ...strano, ci avvisi. Ricevuto. Bene. Forza, possiamo farcela. Pronti? Sempre. Forza. Seguitemi. Passiamo dalla cantina. guardami. Il tempo è stato clemente con te. Grazie. Forse è perché sono vegano. Davvero curioso. Hai creduto? Ti amene, no! No, no, ho persino di spettacolo. La cantina è da questa parte, andiamo. Oh, cari lusso. Ci mancava lo schifo di tecno europea. Mi dispiace. Ci siamo. Oh, cavolo, è chiusa. Merda, prima era aperta. E adesso? Ascendiamo? No, è elettronica. Troviamo un'altra strada. L'avete visto? Schede a tasca sinistra. Faccio io. Wow, 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 wow. Sei sicuro? Ci sono un sacco di occhi qui. È solo un borseggio, ce la faccio. D'accordo. Non fare casino. Ci sto neanche provando. Lo vedo. Ah, merda. Ti serve qualche dritta? No, è riscaldamento. Ok, ok. Che ne dici? Fare come ai vecchi tempi, ok? Distraggo, il colpo. Ci stai? Sì, bene. Vai. Sì, bene. Sì, bene. E dubitava di me. Adoro i professionisti in azione. Ok. Bene, eccoci qui. Queste ci serviranno. Ottimo. Buona fortuna. Ci aggiorniamo. Mani in alto. Ciao, Victor. Ciao, Nadine. Che piacere rivederti. Questa volta ti ho colto di sorpresa. Allora sono lieto non sia una pistola vera. Non ti avrei riconosciuta senza uniforme. già, sai com'è. A volte per lavoro devo tirare fuori il mio lato femminile. Ti vedo in forma comunque. Anche tu non sei male. Qui mi sento fuori luogo. Non sai che è piacere incontrare qualcuno che parli la mia lingua. Anche se tu sei americano. Per questo prenditela con i miei genitori. Stavo andando al bar. Ti prendo qualcosa? Sì, uno scotch. Con ghiaccio. Torno subito. Nate? Hai sentito tutto? Sì, Forbetto. C'è una ragazza che ti fa la corte. Già. Nadine Ross mi sta offrendo da bere. Nadine Ross? Sbaglio o ha un esercito di mercenari? La coastline. Shoreline. Sì. Giusto. C'era ruggine tra voi. Chiamiamola ruggine. Per fortuna non sembra portarmi alcun rancore. Io qui sono pronto. Ok. Bene, noi ci siamo, Sally. Tu non cacciarti nei guai. Ci proverò. Ci sei? Sì, andiamo. Dobbiamo scoprire dove fanno pausa cuochi e camerieri. Potremmo tirarne fuori uno dalla cucina. Allora cerchiamo la cucina. Wow, c'è abbastanza cibo da sfamare una città. Ma che diavolo è? Questa porta non c'era sulla pianta. Chiusa. Ovviamente. Ok? Piano B. Condotti di ventilazione. Attenzione. Nathan, vieni a vedere. Ecco qua. E luce fu. Un bel impianto elettrico. Non hai una torcia? Sì, può andare. È sempre una buona idea farsi accompagnare da un fumatore. Pranne quanto bisogna correre. Accidenti. I fumi dell'alcol cominciano a darmi alla testa. Per fortuna guida a Sally. Piccolo cieco. Forse l'accesso ai condotti è dietro alle botti. Quel vino dannata deve valere parecchio. Sì, forse Alcasara ha un debole per il buon vino. Qualcosa mi dice che non ha nessuna intenzione di scappare. Ehi, dovremmo preoccuparci che Victor sia chiacchierando con la Vienrossa? Ho sentito il testo. Non preoccuparti, per Sally. C'è sempre a cavarsela. C'è sempre a cavarsela. Di qua. Nei condotti, la nostra via d'uscita. Ehi, ce la faccio. Non ho bisogno del tuo aiuto. Sto tenendo l'accendino. Tiene l'accendino. Ok, saliamo. Bene, ci siamo. È più angusto di quanto sembri. È molto più polveroso. Shhh, maledizione. Cosa portiamo a quell'odioso migliardario tedesco? Sembra che te le mi attrattiamo in quella roba sul naso. C'è carenza di camerieri. Porta di sciacquature dei piatti. Aspettare. Questa gente meriterebbe un calcio nel culo. Ma sai, prendi una bottiglia da qua. E andiamo. Merda. Da questa parte. Ok. Sì, vai. Vai, silenzio. Sì, vai, silenzio. Si procurano tutta questa roba. Sono pezzi rubati ai ricettatori. Aria fresca, arriviamo. Guarda qui. Vedi l'edificio con la torre radio? Intendi il ripetitore? Che? Vabbè, è la sala del generatore. Sì, hai ragione. Troviamo un modo per superare il cancello. Sam, qui. Ti sollevo io. Ok. Bene. Per fortuna sei ancora in forma. Ecco. Sully, siamo usciti dalle cantine. Andiamo alla sala del generatore. Com'è la situazione? Sully? Ci sei? Forse è un problema di ricezione. Sicuramente sta bene. Bim, ecco la cucina. Eh, ovviamente. Sam, guarda. Forse potremmo usarla per trovare una finestra e calarci nelle cucine. Ottima idea. Io ti sollevo, tu occupati della scala. Ok. Ci sei? Occhio, occhio. Buonasera. Ma che sta facendo? Piano con i civili, Sam. Capirai. Ci sveglierai mutante col mal di testa. A noi capitava spesso, no? Già. Ok, io ho da fare. E tu hai da fare. Già. Ok, verso la sala del generatore. Sam, tutto ok? Sì. A parte i pantaloni troppo attillati. Beh, sono la moda del momento. Davvero? Beh, quando sei a Roma. Perché siamo in Italia. Lo capite. Bene, torno alla sala del grande stile di bene. Ci vediamo. Sì, Sully. Sam, ci sei? Sam? Sully! Perfetto. Ok. È come andare in bicicletta. A centinaia di metri da terra. Yeah. Ah! Allora. Ah! Ah! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, siamo rimasti bloccati dentro per un mese. E il povero cavallo? A bordo avevamo un sacco di carote. Conosci qualcuno? No. Pensavo di sì, ma no. Non mi hai mai presentato il tuo famoso socio, Drake? Il mio ex socio. Ormai è un po' che lavoro solo. Drake non c'è più. Ah, vale a dire morto? Oh no, diciamo in pensione. Dicono che Righi Dritto si è sposato. Beh, allora è come se fosse morto, no? Victor Sullivan. Come diavolo stai? Riff? Quanto tempo è passato? Dieci anni? Dodici? Quindici. Fantastico. Dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morte. Ah sì? Pensavo gestissi l'azienda di famiglia. Ora è la mia azienda. Sì, quello è il lavoro ufficiale. Oh, un lavoretto niente male. Scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta. Beh, certo. Ma che gusto ci sarebbe? Ultimamente mi interessano solo i pezzi pregiati. La roba grossa. Su cosa dovrei puntare questa sera? Sì, come se avessi i suoi soldi. Ma... Detto tra noi, ho visto che hanno invertito i lotti. Ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta. Beh, ricordati dove sei. Qui nessuno si è arricchito regando dritto. Per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così. Beh, mi spiace dovertelo dire, ma... Ora lavori per un americano. Come? Questa volta siamo soci. Capisco. Wow. Una coppia esplosiva. Tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo. Un crucifisso di legno intersiato della collezione Troth. Beh, non farò il terzo incomodo. Divertitevi voi due, eh? Aspetta un po', Sally. Come l'hai scoperta? Cosa? Cosa avrei scoperto, Rafe? Nadine, forse il tuo socio ha esagerato con i Bloody Mary. Basta, stronzate, nonno! Non so come tu sia riuscito a entrare, ma se solo pensi di partecipare all'asta della croce di Avery, sappi che ne uscirai in una cassata morto. Beh, ci siamo capiti. È stato un piacere. Nate. Nate. Dannazione, ragazzo, dove diavolo sei? Ok, il generatore. Posso farcela. Diavolo, perché ho scelto il generatore? Dannazione, ragazzo, 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 ragazzo. Ogni. Vander. Il voce si è riuscente. Centra сюда, ragazzo, 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 ragazzo. No, no, no. Non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettrici... Ecco fatto. Speriamo di non dover cambiare altri possibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare... Ma che diavolo? Pronto? Che cosa? Vuoi diventare? Sì, 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 sì. D'accordo, d'accordo, arrivo subito. Che succede? Dì, ma trovavano le caratteristiche, ma non sono le domande. Ciao. Ci siamo. Ora, dove diavolo sono gli interruttori? Merda. Sam, Sally, ci siete? Dannazione, ragazzo. Dove eri finito? Ce l'ho fatta, con qualche contrattempo, ma... Se puoi tagliare la corrente, dovresti far l'oro. Ok, ma mi servirà un minuto per arrivare al pannello. Non abbiamo un minuto, Rafe. Sta per andarsene con la vostra croce. Aspetta, cosa? Rafe? Rafe è qui? Sì, Rafe è qui. E al momento la sua offerta è quella più alta. Beh, tu rilancia. Con cosa? Non me la posso permettere. Sally, la stiamo rubando, ricordi? E se capisce che è un blef... Non succederà. Siamo a 90.000. Qualcuno offre di più? Ragazzi, se non prendiamo la croce, sono un uomo morto. Sì. Ma se faccio l'offerta più alta, moriremo tutti. Sally, ho bisogno di un po' di tempo. Se nessuno offre di più... Fidati di me. 91. 92. Al diavolo. Bene. Abbiamo un'offerta da 100.000 euro. Grazie. Nessuno vuole rilanciare? Abbiamo un'offerta da 110.000. Fatto 30, faccio 31. Questa offerta... Tranquillo. Tra un attimo sarai salvo. Me lo auguro. Ok, devo solo rompere il lucchetto. Abbiamo un'offerta di 130.000. Siamo ora a 140.000. Niente. Il signore laggiù porta l'offerta a 150.000 euro. Forza. La situazione comincia a farsi calda qui. Nuova offerta. Siamo a 160.000 euro. Sì. Con l'offerta del signore saliamo a 170.000. Adesso abbiamo un'offerta di 180.000 euro. Finalmente. Altra offerta alla cifra di 190.000 euro. Bene, sono all'interruttore. Pronti? Sono un'auto pronto. Victor? Un secondo. Il signore ci offre 200.000 euro. 500.000. Vediamo di farla finita. Ehm... Grazie. Bene, l'offerta attuale è 500.000 euro. Il signore desidera rilanciare? Mi stavo quasi preoccupando, Victor. Volevi che ti uccidessi? Ok. Roviniamo la serata a questo stronzo. Nessun altro? 501. 502. Dichiaro il lotto venduto per 500.000 euro. Signore e signori, mantenete la calma. Il generatore d'emergenza si attiverà a momenti. E' sparita. Barrate tutte le uscite. E' sotto. Fattene. L'hai fatta di mezzo. Fermatelo. Ehi, fermate quell'uomo. Fermo. Che state facendo? Così lo fate scappare. Mi capite? Sparisci. D'accordo. Ehi, fermate quell'uomo.